Ti sembra Magnacca, un cambio di fascia, un cambio di colore, alla fascia della Presidenza del Consiglio. Le emozioni come sono state? Stesse, diverse? È assolutamente consapevole delle nuove responsabilità che mi attendono. È chiaro che il mio impegno per la città di San Salvo assume un nuovo significato ed un nuovo senso. La funzione di garante e interpretare il ruolo che è la seconda carica istituzionale del Comune comporta anche un cambio di passo. Sono pronta a farlo. Il mio impegno è di svolgere con la massima serietà, onestà intellettuale e spirito di servizio anche questo ruolo. Nell'interesse dei miei cittadini, dei cittadini di San Salvo, che sapranno trovare nell'aula consigliare, mi auguro il giusto soddisfacimento delle loro aspettative e delle loro attese. Infatti durante il suo intervento ha detto che non dimentica le proprie origini politiche, la propria appartenenza politica, però ha enunciato un impegno solenne davanti a tutta l'assise civica. Assolutamente. L'onestà intellettuale impone di essere sempre sinceri fino in fondo. È chiaro che con un'appartenenza politica ad una coalizione che è quella che ha vinto le elezioni, ma nel nuovo ruolo di garante del Consiglio Comunale, di rappresentante dell'intero Consiglio Comunale, farò, come ho detto, esercizio e pratica in ricerca del senso dell'equilibrio, per garantire imparzialità e quindi rispetto a tutti i consiglieri che a loro volta rappresentano l'intera città di San Salvo. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale è solitamente anche la prima cartina al tornasole per vedere se ci sono malumori. Diciamo che è andata bene da questo punto di vista. La maggioranza ha votato compattamente sia il mio nome che quello della Vice Presidente. Chiaramente ci sono stati dei segnali, diciamo così, non molto chiari da parte dei gruppi di minoranza, ma ciò che oggi conta per poter andare avanti e per il Sindaco per essere pienamente operativa è avere la compattezza della propria maggioranza. Poi sicuramente avremo modo di rodare i ruoli e anche le possibilità di incontro dell'intero Consiglio Comunale su proposte fattive nell'interesse della città. Per chiudere, lei viene da dieci anni di amministrazione, soprattutto gli ultimi cinque, diciamo con un ruolo consolidato, una maggioranza ampia. Questa volta la maggioranza è più risicata. Cosa si aspetta da questa scelta che hanno fatto i San Salvesi, un'opposizione più dura da questi banchi? L'opposizione sceglierà di essere come ritiene più giusto essere. Non sarò certamente io a indicare la strada a nessuno. Certamente il lavoro dell'amministrazione comunale attiva e poi dei consiglieri di maggioranza dovrà essere un lavoro trasparente in maniera tale che si possano garantire al massimo gli interessi di San Salvesi e anche all'opposizione di fare l'opposizione più adeguata al modo di amministrare che avrà il sindaco e i consiglieri di maggioranza, me compresa. Per cui saranno liberi di essere come riterranno più opportuno essere, ma noi siamo molto convinti della nostra compattezza e della nostra capacità di essere in ogni momento, in ogni fase amministrativa e anche quella di indirizzo politico, non solo collaborativi, ma estremamente trasparenti per cui ci aspettiamo un'opposizione corretta e istituzionalmente adeguata al loro ruolo.